A sud-est del grande lago Chad c'è il lago Fitri, una distesa d'acqua punteggiata di ninfee e fiori di loto. Il lago è poco profondo e alimentato da acqua piovana e corsi d'acqua stagionali, per cui nelle annate piovose le dimensioni possono anche triplicarsi. Tra i fiori immerse nell'acqua, alcune donne raccolgono frutti che nascono tra i gambi delle ninfee. Le isole del Fitri non sono fragili come quelle del lago Chad. Vi crescono persino grandi acace e palme d'om, che offrono riparo a numerosissime specie di uccelli. Su una di queste isole ecco un insediamento di pescatori stagionali. Tra gli alberi pendono insolite collane, fatte di filetti di pesce messi a seccare. Qui non esistono frigoriferi e il pesce deve essere subito pulito e lavorato. Migliaia di ami sono legati alle lenze o appesi, disegnando geometrie nel cielo azzurro. Sotto gli alberi o nelle radure sono accese piccole braci per affumicare i pesci da conservare o per cuocere quelli da consumare sul momento.